ultimo mi devo occuparmi di smith e perquisirlo per trovare informazioni sul nuovo missile smith non è l'unico bersaglio devo eliminare anche gli ufficiali dovrò saltare si può solo salire 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 quella torre sembra un buon punto di forza si può solo salire si può solo salire si può solo salire si può solo salire si può 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 salire se può salire se ci può salire può salire ma si può salire Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Forse dovrei occuparmi di quel checkpoint. Grazie a tutti. 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 La villa. Grazie a tutti. 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 Smith. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Salve a tutti. Sei nella lista. Grazie a tutti. 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 a tutti.